Ecco il cross, colpo di testa e gol di Skrini. Allora c'è Leao, Leao che prova ad andarsene in mezzo a due. Ecco Leao che innesca la marcia alta. Rafa, splendido per Olivier Giroud. Olivier Giroud, il tiro, la parata di Donnarumma, la rovesciata di Rafa. Gol! Rafa e Leao, il rovesciato! Camerda, Leao, rovesciato, gol! Aggiornate le statistiche! Aggiornate le statistiche! Uno a uno! Ancora Teo, 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 la mette in mezzo. Teo, il competente di Giroud, il gol meraviglioso di Olivier Giroud! Olivier Giroud, Olivier Giroud, siamo venuti qua su, siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud! Teo! La grande parata di Donnarumma. Palla lunga, va a Giroud, prova a inserirsi, Okafor, 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 Okafor. Tiro! La parata di Donnarumma, subito pericoloso no, Okafor. Subito pericoloso, si arrabbia con i compagni Gigio, calcionandolo per noi. È finita! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi! Grazie a tutti.